Alcuni anni fa, con un servizio del TG Noi, raccontammo la storia di un antico borgo, caprignana, disabitato a causa del sisma del 1920, che qui causò un grosso movimento franoso. Gli abitanti del piccolo paese furono costretti ad abbandonare le loro case. Per alcuni anni si adattarono a vivere nelle baracche, poi il paese risorse poche centinaia di metri più sotto. In questi giorni, con una bella cerimonia, si è inaugurato il restauro dell'antico campanile, che era rimasto in piedi, a differenza della chiesa che era crollata a seguito del dissesto del terreno. L'amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Raffaella Mariani circa due anni fa, aveva chiesto aiuto alla soprintendenza di Lucca al fine di mettere in sicurezza il campanile. L'obiettivo era di salvaguardare quello che poteva divenire un simbolo di quello che accadde oltre cento anni fa. Ci tenevamo moltissimo a questo recupero perché ha un valore simbolico molto forte, intanto perché è il simbolo di un paese che fu dichiarato da smobilitare, da abbandonare con un regio decreto nel 1920 subito dopo il terremoto e poi perché c'è ancora un attaccamento molto forte della comunità di Caprignana a questo luogo che è il luogo delle loro origini. I lavori ben eseguiti sono stati finanziati dal Ministero dei Beni Culturali grazie all'interessamento dei funzionari della sede di Lucca della soprintendenza. Ogni tanto riusciamo ad avere dei finanziamenti per restaurare, per restituire alla popolazione, alla gente dei luoghi importanti, simbolo. A nome di tutto l'ufficio e della dottoressa Accordon siamo molto soddisfatti sia del lavoro che dell'affluenza. Dopo i saluti istituzionali la Santa Messa, celebrata da Don Giuliano Salotti, proprio nel luogo dove per secoli questa comunità ha potuto pregare e seguire la liturgia. Ora questo posto ha di fatto assunto un ruolo che va oltre la memoria in quanto deve anche ricordare a tutti noi l'importanza di un'attenta prevenzione, quale strumento giusto per proteggerci dalle calamità naturali.